Oggi vediamo cosa c'è dietro la progettazione di un oggetto al laser. Scopriremo insieme come è fatta questa lampada tagliata grazie al laser Longer B1 da 33W che ho recensito qualche giorno fa. Vi lascio il link del video qui su in alto, nelle schede e in descrizione. Questa che vedete è la versione finale che ho partorito con non poche difficoltà. Vediamo insieme quali sono gli aspetti che la rendono particolarmente smart. Innanzitutto il montaggio semplificato con tanto di istruzioni dettagliate. Infatti se vi interessa il file lo trovate su Etsy a pochi euro, potete riprodurlo. Vi lascio il link e il codice sconto del 50% in descrizione. Trovate sia il formato LightBarn che di XF. I file sono più di uno, dovete solo scegliere quello più adatto allo spessore di legno che avete in casa. Va bene qualsiasi spessore purché compreso tra i 3 e i 5 mm. Gli elementi sono quelli che vedete qui sul tavolo, ovvero 18 pezzi verticali, di cui 2 divisi ulteriormente in due parti, quindi 4 metà. Scopriremo presto il perché di questa modifica. E 13 ghiere, anch'esse tutte divise in due parti, compresa quella che dovrà ospitare il portalampada. Questi bucherelli, apparentemente inutili, sono in realtà dettagli costruttivi che danno robustezza alla struttura. Il principio sfrutta l'elasticità del legno, seppur minima. In ingresso, infatti, le due parti si allargano leggermente a causa di questa piccola bugna, ma poi ritornano in posizione quando la bugna incontra la parte forata. Si sente un vero e proprio clac e la giunzione risulta ben salda. L'assemblaggio a mezzo legno risulta ulteriormente facilitato anche dallo smusso dell'ingresso, che vi aiuta ad inserire reciprocamente le due parti. Due degli elementi verticali sono numerati, così come tutte le ghiere. Prendiamo uno dei due elementi verticali numerato e iniziamo ad inserire in sequenza tutte le ghiere con un occhio alla numerazione. L'altro elemento verticale numerato ci servirà per la seconda metà. Ne ho numerati solo due per risparmiare tempo di incisione, in quanto, una volta definita la sequenza corretta, non c'è più ambiguità nel montaggio. Proseguiamo stando attenti ad alternare il punto di fissaggio delle ghiere, così come segnalato nelle istruzioni di montaggio e come si vede bene nelle immagini. Devono essere sfalsate. Questa accortezza, in futuro, ci sarà molto utile in caso di sostituzione della lampadina o del portalampada, ma il tutto sarà molto più chiaro nel proseguo. Terminato di assemblare due elementi verticali, la lampada inizia a prendere forma e compattezza e il montaggio dei successivi sarà molto più semplice. Ed ecco come si presenta la prima metà. Il primo e l'ultimo elemento verticale non vanno inseriti, in quanto utilizzeremo quelli che ho ribattezzato conci di chiave e che chiuderanno la struttura. Non preoccupatevi, tutto sarà molto più chiaro a breve. Passiamo velocemente alla seconda metà e ripetiamo le stesse operazioni che abbiamo compiuto per la prima. Mi raccomando, occhio sempre a sfalsare le ghiere. Montiamo quindi il portalampada e avviciniamo i due pezzi in modo che le due semilampade si possano unire, come fossero le due metà di una conchiglia. E i conci di chiave, ovvero gli ultimi due elementi verticali, che in realtà sono quattro, in quanto separati in due, consentono di unire saldamente le due parti. Ma perché separare in due gli elementi verticali di chiusura? Semplicemente perché sono più semplici da inserire, essendo più corti, anche per coloro che hanno poca manualità. Entrano più facilmente e questo costituisce sicuramente un valore aggiunto, soprattutto nel caso in cui si voglia in futuro commercializzare o vendere il prodotto. Chiaramente, oltre al portalampada, non dimenticate, come ho fatto io, di inserire la lampadina. Rigorosamente a LED per evitare pericoli connessi al surriscaldamento del bulbo e, di conseguenza, del legno. Sfrutto la dimenticanza per mostrarvi quanto sia semplice e rapida l'operazione da compiere. La lampada può essere sfruttata sia nella variante, per così dire, da comodino, quindi semplicemente appoggiata o inserendo due supporti trasparenti che ne modificano l'inclinazione, o in alternativa si può appendere a modi lampadario. E anche in questo caso risulta utilissimo il sistema di apertura semplificato. Bene, il video si conclude qui. Come sempre spero di aver fatto qualcosa di utile e interessante. Se così fosse, mi invito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a spuntare la campanellina, insomma, le solite cose che chiedo sempre, che però sono davvero molto importanti per la crescita del canale. In descrizione trovate tutti i riferimenti, sia del laser che della lampada e delle lampade, perché qui ce ne sono più di una. E niente, a me non resta salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video, sempre qui sul canale dell'Epifamily. Ciao ragazzi!